Questi oggetti vi permettono di vincere ogni battaglia Pokémon. Seguitemi per altri contenuti. Parliamo degli strumenti X, come attacco X, difesa X e così via. Il loro effetto consiste nell'aumentare una statistica di un Pokémon fino al termine della battaglia o quando quest'ultimo viene sostituito. Se avete in campo un Pokémon abbastanza resistente, potete calarne 3-4 e poi completamente distruggere l'avversario. Pensate che nelle ultime generazioni l'attacco X arriva a raddoppiare l'attacco di un Pokémon. Immaginate sprecare un solo turno per poi fare il doppio del danno per tutta la lotta, semplicemente troppo rotto. Ma non finisce qua, potete anche aumentare la vostra velocità, le vostre difese e se proprio volete sgravare, curarvi anche nel mentre che fate questo processo. Appena imparerete ad usarli vi assicuro che smetterete subito perché distruggono completamente il gioco. Ed ecco perché...